Ciao a tutti amici e amiche, come state oggi? E va bene, sono a mangiare giapponese da Niki Miki Cioè, abbiamo preso tanta roba, e mi ha preso anche le seppie, a me hanno fatto peccato le seppie Quindi, cioè, ok Ho appena mangiato un dolce e aspetto un dolce che dovrei avvistarlo fra poco E va bene, è tutto così buono, cioè c'è un po' di tutto qui E c'è una bontà divina Io sto aspettando un dolce in lontananza Cioè, sto aspettando, cioè, ok Queste cupolette sono stra bellissime, mi piacciono da morire Vorrei avere... un dolce, un dolce in lontananza, me lo prendo E mi sono preso il dolce E va bene, adesso mi mangio il dolce Ci vediamo in un prossimo video, spero che vi sia piaciuto questo mini vlog Ciao